Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, quest'oggi, eh ragazzi, TZ Simproject, guardate che bellissimo, hello, attenzione per tutti, del pacco provoca gioia, trovo un'idea fantastica. Ringrazio i ragazzi di TZ per avermi mandato questo pacco e andiamo a scoprire cos'è. Ovviamente sempre il nostro taglierino e la confezione è bellissima ragazzi, eh. Molto molto bella, mi spiace aver tagliato questo foglio A4 e andiamo a scoprire subito di che cosa si tratta ragazzi, di che cosa si tratta, VNM Simulation, guardate un po' ragazzi, spaziale, spaziale ragazzi, facciamo un po' di ASMR. Questo è il cavo. Prima impressione, esaminiamo un attimino questa corona. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto pulsanti, due rotari, uno, due funky, due rotari qua, due selettori, quattro paddle, due per la frizione e due per le marce. Impugnatura in silicone, molto molto caruccio e ovviamente ragazzi sarà LED e dovremo andare a scoprirla ovviamente. E il pulsante di reset, USB, USB-C, molto interessante. Allora ragazzi, cosa c'è incluso con questo GT V1? c'è ovviamente la guida, la QuickWid, ovviamente ci sono anche gli adesivi da apporre sui vari pulsantini, c'è anche la pinzetta addirittura per essere precisi e poi nella scatola si trova anche, quindi sì, la pinzetta come vi dicevo ragazzi, ci sono le chiavi per poter montare il tutto e una prolunga USB e poi un sacco di viti, molto carino, molto carino, sensazioni anche qui dei selettori mi piace molto. A livello di design un bel lavoro ragazzi, veramente un bel lavoro. Non ci resta che andare a testarla, quindi come al solito rimanete sintonizzati sul canale e se non l'avete ancora fatto ragazzi lasciate un pollice in su se questo VNM vi piace, Steering Well, e noi come al solito ci vediamo prestissimo. Ah, e ricordatevi, iscrivetevi al canale. Ciao!